ok avete letto il titolo sapete cosa c'è qua dentro ma siete proprio sicuri che sia solo quello vi lascio sulle spine fino in fondo no c'è anche altro ma partiamo da questi pacchi questo arriva da voi immagino ariano francesco vediamo che cosa contiene addirittura con pacco celere 1 plus mi è arrivato l'ha recuperato il portinaio protezione contro il tuo tastierino cosa c'è dentro sono molto curioso leggi tutto non qua sennò viene un unboxing di un'ora ma dopo prometto leggo tutto lampada da scrivania ma cos'è una matrioska ciao andrea leggi tutto me l'è scritto 42 volte non posso leggere tutto di tutti in diretta ma c'è dentro un sacco di roba ma un sacco di roba piccolo regalino per tuo figlio poi prometto di aprire tutto davvero promessa 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 grazie ma cos'è questa cosa fai da te per andrea ma no qua sono veramente curioso perché c'è una sorta di specchiettino ma cos'è è un contenitore con led no vabbè ragazzi vi faccio una storia a instagram grazie mille poi leggo tutto con calma pacchetto di brt e qua vi confesso una cosa ho comprato sul mio mercatino sì su mercatino punto te che spero esca in beta dalla beta prima o poi dipende dal grafico che si sta un po' addormentando sugli allori sulla grafica definitiva quindi per quello ancora un pochino l'insordina non è linkato sul blog principale ma comunque operativo se andate all'indirizzo semplicemente mercatino punto te potete già vedere cosa c'è da comprare cosa c'è da vendere e ho visto che un utente ha messo in vendita questa cosa qua che adesso vi faccio vedere se riesco ad aprire il pacco comunque grazie complimenti per la confezione direi a prova d'urto e a prova di furto anche cosa ho comprato a un prezzo direi interessantissimo eccolo qua il nuovissimo garmin ibrido vivo move hr che praticamente è un ibrido tra uno smartwatch e un orologio lo proverò tra l'altro sono passato sono tornato al tico ce l'avevo lì da riprovare bianco molto molto bello da un paio di giorni e poi magari farò il video in questi giorni come va dopo un bel po' perché è ormai un bel po' che è uscito sono arrivati anche degli aggiornamenti software ma ecco cosa c'è qua dentro sì ovviamente lui il p20 lite storia curiosa del p20 lite poi ve la racconto ma anche stamattina c'è stata una colazione si wawai mi ha copiato il copyright no ma non c'è nessun copyright è stata una cosa molto simpatica ci ha dato questo doggy bag c'era dentro tutto questo bendidio tra l'altro i biscottini frolla erano top veramente buonissimi ma ci ha dato in prova il media pad m5 quindi il tablet che può fare anche un pochino da desktop replacement quello con quattro altoparlanti arman lo unboxo lo tolgo dalla scatola con fingerprint materiali ci sono insomma ce l'ha fatto vedere un po' ce l'ha dimostrato in una situazione un pochino più tranquilla rispetto quella del mobile world congress e sembra un buon tablet la mia domanda è ma c'è ancora qualcuno che utilizza tablet android ma il tablet ha senso non lo so vi porto la mia esperienza dove il tablet è un po' quella roba via di mezzo tra smartphone che ha un display sempre più grandi e quindi ci si riesce a fare sempre più cose e il pc che come produttività non ha assolutamente paragoni però vabbè non lo so magari nei commenti qua sotto apriamo un dibattito e poi ironie della sorte andavo da huawei e sono passato no in realtà non è vero il giorno prima ho trovato in vendita il p20 light eccolo qua p20 light che in teoria dovrebbe essere presentato a parigi il 27 di marzo in pratica anche nel huawei store era lì presente in vetrina pronto per essere venduto quindi boh stranezze di huawei prime impressioni lo sto usando già da ieri beh molto molto bello per quanto riguarda il design con qua la tacca amata e odiata come viene gestita la tacca vi faccio vedere solamente una cosa al volo in anteprima le notifiche magari aspettate che alzo un pochino la luminosità così si vede un pochino meglio vedete io ho tantissime notifiche qua ma la sopra causa tacca ne vedo solamente poche nessuna perché ho comunque lasciato il nome dell'operatore che si può togliere quando vado a fare il swipe giù vedete è un pochino sovrapposta la scritta nulla drammatico nulla di male sicuramente android p abbiamo visto che ci metterà una pezza molto bello comunque dicevo come design vetro dietro kirin 659 4 giga di ram 4 giga di memoria a disposizione 64 gigabyte a disposizione dell'utente lo faccio vedere un po su tutti i lati c'è lo sblocco con riconoscimento del volto devo dire anche abbastanza veloce domani live batteria e penso domenica recensione recensione completa comunque prime impressioni direi più che positive molto carino davvero e poi crisi di idee ma quello è il titolo che rimane non solo in casa huawei ma generale dopo il mobile world congress ho unboxato tutto vi ho detto tutto e vi do anche un altro appuntamento mi raccomando sabato ore 15 30 auto centauro busto arsizio ci vediamo per sfidarci con la playstation 4 a gran turismo sport si vincono un sacco di cose weekend formula 1 per 2 si vince un corso amg della driving academy e poi qual è l'ultimo premio a un weekend con una glc sì 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 ci vediamo sabato busto arsizio 15 30 auto centauro la via non me la ricordo ma andate su facebook perché c'è un post dove trovate tutto ciao